buonasera buonasera a tutti dallo sport city questa è la serie a di calcio a otto questa è il lazio contro fraschetta del pesce express una sfida a metà classifica chi vince oggi può sperare di poter lottare per qualcosa di importante questa stagione chi perde invece rimane nel limbo del centro classifica sfilano in campo amici amico lato corto dell'area chi lelli fa la sponda pala che rimane lì amico il pallo incredibile la prima vera occasione del match per la lazio pronto amico della bandina battuta corta ancora palumbo che si fa vedere zona tiro il destro è l'uno zero della lazio è il gol del numero due è il gol di cristian palumbo ancora la sponda del numero 9 arriva quino vuole il destro non lo finta e poi serve di francesco dentro chi lelli 2 a 0 per la lazio arriva il solito gol del solito numero 9 il gol è di chi lelli controllo di vittozzi uno scontro si gioca perché vittozzi porta il pallone col suo destro vittozzi non trova sul secondo palo un compagno una grandissima occasione per accorciare distanza in corso lunghissima di de francesco il destro è un grandissimo gol di de francesco che trova il 3 a 0 per la lazio partita in cassaforte per i bianco celesti fisca l'arbitro è pronto russo destro ancora raso terra ancora deviato ed è il gol del 4 a 0 in un minuto la lazio ne fa due entrambi da calcio piazzato eccolo qui il triplice fischio dell'arbitro si chiude 4 a 0 per la lazio che trova altri tre punti in campionato e stacca il centro classifica si chiude 4 a 0 per la lazio partita in cassaforte per i bianco celesti fischio dell'arbitro